Le vendite promozionali in parte li hanno già preceduti ma nonostante questo strappo alla regola imposto dal covid i saldi estivi che partiranno domani in tutta Italia sono i più attesi e più importanti degli ultimi dieci anni. Ne è convinta la categoria, lo slogan è proprio di Federmoda che spiega come la crisi della filiera della moda sia stata certificata in questi giorni proprio dall'intenzione del governo di mantenere solo per questo settore il divieto di licenziamento. Direi che con questo saldo probabilmente ci si gioca buon parte della resistenza che le aziende avranno in futuro nell'affrontare la prossima stagione e gli anni a venire. Negozi che nel Trevigiano ormai da tre stagioni hanno visto gli incassi ridotti mediamente di un terzo spiega Guido Pomini. Per i saldi si stima una spesa per famiglia di circa 170 euro erano 102 anni fa. Anche un sentiment che come dire se può essere come dire di significativo di una nuova ritrovata voglia di consumare e di acquistare da parte del consumatore. Quindi diciamo che ci sono tutte le aspettative perché si possa respirare un pochettino e guardare con un po' più di fiducia al futuro. Mai come quest'anno conclude Pomini dovremo aspettare almeno tre settimane per avere una lettura attendibile dell'andamento di questi saldi. Saldi che quest'anno per volere della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni partiranno per tutti lo stesso giorno. Le Regioni non erano assolutamente allineate su questa posizione. Tant'è che il Veneto, una parte del Veneto sperava di ripartire dalla data di gran successo dell'anno scorso che era l'ultima settimana del mese di luglio. Quest'anno in realtà per motivi come dire molto complessi si è arrivati al 3 luglio. Oggi siamo qui e cerchiamo di fare un buon lavoro e di portare a casa il miglior risultato.